Pensa che le mucche fanno doccia e massaggio. Così si rilassano. Sì. E tu ci credi. Ci credi adesso? Allora? Come si rilassano le mucche? Latteria Soresina. C'è più bontà nella verità. Allora? 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 Questo è un nuovo sale. Allora? Allora? Come si rilassano? Allora? 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 quale ora dà questa parte? quale voleva? è magrissima una che adesso è stata coperta un po' un po' Grazie. Grazie. Pensa che le mucche fanno doccia e massaggio. Doccia e massaggio. Doccia e massaggio.